Stavo lavorando e mi sono fermato perché mi hanno portato questo video, guardiamolo insieme, guardiamolo. La regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Ma questo è proprio scemo, rivediamolo. La regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, ha un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto... Allora, questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Maiolino, è candidato alla regione Lombardia, ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto, meritano anche il suo rispetto. Lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino. Quindi, Maiolino, come dicono i miei amici Lombardi, lascia stare la politica, va a lavorare.